ciao a tutti sono martina alzini e sono molto felice di partecipare a questo giro d'onore seppur in maniera virtuale partecipa questo giro d'onore grazie a due medaglie d'argento conquistate ai campionati europei di ciclismo su pista in bulgaria a plovdiv la prima medaglia d'argento e nell'inseguimento a squadre con tanto di record italiano e la seconda nell'inseguimento individuale anche lì con un record italiano ringrazio chi ha reso possibile questa edizione del giro d'onore ripeto seppur in maniera virtuale mantenendo comunque alta la tradizione di questa manifestazione all'interno del nostro sport vi saluto e vi auguro buone feste